Buongiorno amici di Facebook, se mi seguite sapete più o meno, immagino che lavoro con Fujifilm da inizio anno, ho pubblicato diversi articoli, diverse gallerie di foto che ho fatto durante i miei viaggi durante l'anno, sono stato in diverse fiere legate alla pop culture, sono stato a Seattle, a Chicago, a Tokyo, ho girato un po' il mondo e ogni volta mi sono portato dietro macchine Fujifilm, con cui appunto ho questa collaborazione, loro mi forniscono l'attrezzatura e io gli cambio, mostro un po' come funziona, eccetera, eccetera. Finora ho usato una X-T3 che era il loro corpo di punta, insieme a anche lenti fantastiche, la settimana scorsa però l'ho data indietro perché volevo cambiarla per i prossimi due viaggi, ci sarò il prossimo agosto a Colonia per Gamescom e a settembre tornerò a Tokyo per il Tokyo Game Show, in più farò due settimane in giro per tutto quanto in Giappone e per il NerdTrip, sarà una bomba e volevo un corpo un po' più compatto, in particolare volevo la X100F che è la loro macchina compatta, un po' così da street photography, senza lenti intercambiabili ma ancora con lo stesso sensore, lo stesso diciamo, sì, sensore APS-C degli altri loro corpi, ma in tutto in una forma molto più compatta perché volevo sperimentare insomma qualcosa di più piccolo. L'X-T3 è il loro corpo di punta, quello più pesante, più grande, che comunque è una mirrorless molto piccola in realtà, invece la X100F è diciamo l'opposto. Mi è appena arrivata, ho pensato che aveva senso fare un unboxing velocissimo proprio, non sto a tediarvi con un video lunghissimo, anche perché la conosco ancora molto poco, per cui vi parlerò semplicemente delle caratteristiche tecniche. Non è una macchina nuova, è del 2017, ha caratteristiche relativamente insomma vecchie da un certo punto di vista, lo vediamo proprio insieme al volo. Oltre a quello volevo anche mostrarvi i diversi accessori che gli monto sopra proprio appena spacchettata, che sono poi gli stessi che avevo sulla X-T3, roba di Peak Design, roba del genere. Andiamo qui sul bancone, la spacchettiamo al volo, vediamo com'è, vediamo quali sono gli accessori che utilizzo. Allora, pacco da Fujifilm, non ci sono dubbi sul contenuto, a meno che non abbia fatto una mega gaffe, adesso c'è qualcos'altro dentro, ma non credo proprio. X100F avevo chiesto e X100F credo proprio mi abbiano spedito, vediamo un po'. Allora, non è chiaramente nuovissima, è una review unit o una editor sample, come si dice, no? Per cui vediamo un po' cosa c'è dentro la scatola. Allora, si apre da qua. Sempre parte della linea X di Fujifilm, chiaramente. La lente che integra, tra l'altro, non so se lo sapevate, è proprio la stessa 23mm F2 che è disponibile anche per i corpi, diciamo, quelli con lenti intercambiabili. Vabbè, l'unboxing più semplice del mondo, perché veramente, purtroppo, chiaramente è una macchina usata, per cui non è, insomma, non è proprio bellissima da unboxare. Sinceramente non me ne frega molto, mi interessa solamente la batteria, il cavo lo lascio lì che ne ho un milione di cavi micro usb, che altro c'è? La tracolla che adesso cambierò, come vediamo insieme. Via. È la versione grigia, c'è anche in nero, quindi molto interessante e anche piuttosto sporca, purtroppo. Ma va bene, me l'aspettavo. Questa è la batteria, vediamo un po', la mettiamo dentro subito. Tra l'altro, una particolarità che forse non sapevate, tutte quante le macchine Fuji condividono la stessa batteria, cosa veramente di una comodità incredibile, perché ovviamente presa una e presa volendo anche quelle compatibili, poi ve le portate avanti per tutte quante le macchine Fuji, tutte quante da diverse generazioni, cioè sono sempre la stessa batteria o perlomeno della stessa dimensione, poi cambia, credo, leggermente forse la capienza. Questa è ancora da 1260 mAh. E l'altra cosa figa, vedete, qui c'è una clip arancione, si vede bene, che tiene ferma la batteria e sulla batteria c'è questo cerchietto arancione che vi indica proprio come allinearla quando la inserite. Essendo un parallelepipedo e non avendo una forma particolare, si rischierebbe di inserirla magari al contrario, invece facendo combacciare il cerchio arancione con la clip arancione, siete sicuri che la inserite sempre per il verso giusto. Ho comprato nel tempo delle batterie compatibili e gli ho messo un po' di scotch giallo per fare proprio lo stesso effetto. Allora, prima cosa tolgo la tracolla che odio, non mi piace per niente e vediamo la macchina insieme. Poi gli do una pulita proprio al volo perché è veramente piuttosto sporca, basta un panno in un bidito o come in questo caso è un piccolo panno per pulire le enti. L'SD card va nella parte inferiore, questa qui da 64GB direi che basta e avanza, non dovendoci fare video ci farò solamente foto, non è esattamente una macchina per fare video, arriva a una risoluzione il 1080-60 frame al secondo, ma insomma non è fatta per fare video, questa macchina è fatta per fare belle foto, street photography e roba simile. Allora, intanto è bellissima, è veramente strepitosa. Le dimensioni sono super contenute anche considerando appunto come vi dicevo che ha al suo interno un sensore APS-C con 24 megapixel, non ha nessun tipo di stabilizzazione interna purtroppo. La lente integrata è il 23mm Fuji F2 che hanno fatto stare, non si sa come, dentro a questo corpo. Lente fissa, non c'è alcun tipo di zoom, se mi seguite sapete che io odio gli zoom, adoro semplicemente lavorare con le lenti prime, si chiamano, cioè con le lenti fisse. Il vostro zoom sono le gambe. Se avete una lente fissa come questa, che più vale un 35mm su full frame, vi abituerete semplicemente a capire ancora prima di fare la foto qual è lo scatto che state per fare, perché è sempre lo stesso, quindi l'inquadratura bene o male sarà sempre lo stesso, muovendovi davanti e indietro con le vostre belle gambine saprete già ancora prima di scattare come verrà la foto, cosa per me fondamentale. In più si ha in questo caso la possibilità di avere una lente bella luminosa F2 e insomma è con una qualità ottica superiore rispetto a uno zoom e oltretutto molto molto piccola. Vedete quanto riesce a essere piccola dentro al corpo della macchina. Oltre a questo di interessante c'è il filtro ND integrato, cosa che sfrutterò senz'altro durante l'estate. Il filtro ND a che serve? È un filtro che diciamo inscurisce quello che è visto dalla lente, inscurendolo dalla possibilità in una giornata molto soleggiata, quindi con moltissima luce, di usare una apertura più grande, quindi più aperta insomma e quindi avere una profondità di campo più corta, cosa che non sarebbe possibile fare altrimenti senza F2 ND perché la luce che entra sarebbe troppa e quindi se saresti costretti in soldoni invece che usare l'F2 che è il minimo diciamo qui di questa lente, magari passare a F4, F5, F6, F10 in base alla luminosità. Invece così potete diciamo tenere la lente sempre tutta aperta sfruttando quindi l'ND e avendo quindi una profondità di campo più ristretta e quindi quel bel sfocato di sfondo, quel bokeh che piace tanto ai fotografi. Non credo di aver spiegato benissimo però spero che abbiate capito. Come tutte le macchine Fujifilm controlli manuali ovunque, quello che piace a me, quindi l'apertura direttamente integrata nella lente come vedete c'è sia una A rossa che sta a indicare semplicemente automatico, potete lasciare quindi l'apertura in automatico oppure potete impostarla voi da F2 fino a F16 il massimo. Qui sopra altri controlli manuali bellissimo, i tempi nella parte esterna che potete lasciare sulla A quindi in automatico oppure impostarli voi, invece nella parte interna si vede qui dentro a questa finestrella, tirando in su è possibile cambiare invece l'ISO, quindi c'è anche un controllo manuale dell'ISO, altra cosa strepitosa io di solito lo lascio in A, però se volete magari la sera impostare manualmente un ISO più più alto senza esagerare potete farlo impostandolo manualmente oppure ci sono due generici H che è High e L che è Low, quindi dita alla macchina di impostare sì automaticamente l'ISO ma di farlo entro range sensati che sono o bassi o alti. Qui c'è il pulsante di scatto con anche attorno l'accensione e spegnimento dell'auto e poi sempre manuale, altra cosa bellissima c'è la compensazione per cui da zero a insomma più 1, più 2, più 3 la compensazione della luce. Ci sono poi diversi tasti FN sparsi per la macchina, c'è anche un comodo joystick qui, lo schermo non è un touchscreen, cosa che devo dire mi piace perché non c'è mai il rischio di toccarlo e di andare a cambiare qualcosa, comodissimo il joystick che muove il punto in cui c'è la messa a fuoco, c'è qui il D-pad principale con il controllo del menu e delle altre impostazioni, si possono impostare ovviamente sui tasti degli shortcut per cambiare altre cose, in questo caso per esempio la simulazione delle pellicole Fuji che è uno dei cavalli di battaglia di Fujifilm, in questo caso lo standard Provia è già perfetto. C'è poi qui anche il menu Q che una volta premuto vi fa entrare in questo Q menu proprietario proprio di Fujifilm che così a colpo d'occhio vi fa cambiare tutte le impostazioni principali della macchina, cosa veramente comodissima. Particolarissimo il mirino in questa macchina perché è un ibrido tra un mirino ottico e un mirino digitale, con questo view mode si cambia la modalità, si può passare da un mirino digitale classico quindi al cui interno c'è semplicemente uno schermo LCD che va a rappresentare l'immagine che arriva sul sensore attraverso la lente, è chiaramente una macchina mirrorless quindi non c'è nessuno specchio e anche in modalità ottica non c'è ovviamente anche in quel caso nessuno specchio ma semplicemente si vede direttamente la realtà attraverso questo buco qui e quindi si va un po' a simulare un vero mirino ottico. 10 cm la distanza minima di messa a fuoco, altra cosa molto interessante perché ci si potrà quindi avvicinare moltissimo al soggetto quindi si avrà una profondità di campo molto bassa e quindi quel bel sfocato che ci piace tanto quel bel bokeh oltre che avere altri tanti altri vantaggi cosa per niente scontata con una lente del genere. 469 grammi, 127 x 75 x 52 mm le dimensioni e purtroppo ancora ricarica via micro sd però è una camera del 2017 quindi insomma è abbastanza normale sono certo che quando uscirà la nuova x100 che non so ancora come si chiamerà avrà integrato usb c come aveva la x t3 che avevo fino alla settimana scorsa e come hanno tutte quante le nuove macchine di fujifilm. Altra caratteristica di fujifilm che mi piace un casino sono gli aggiornamenti via software frequenti costanti anche su macchine vecchie che quindi migliorano in questo caso per esempio hanno migliorato negli anni il motore di messa a fuoco che è migliorato insomma e altri aspetti anche hanno lavorato moltissimo anche sulla registrazione video e su altre robe quindi magari anche una macchina che come in questo caso ha due tre anni viene comunque costantemente aggiornata e non mi sembra cosa da poco e neanche per niente comune tra diversi produttori insomma mantiene tutte quante le caratteristiche basi che mi piacciono tantissimo di fujifilm controlli manuali estetica grandiosa costruzione incredibile completamente in metallo eccetera eccetera aggiornamenti software frequenti qualità delle ottiche incredibili simulazione delle pellicole fujifilm che insomma hanno veramente il massimo quindi in soldoni color science del sensore e dell'elaborazione dell'immagine ai massimi livelli insomma questo è fujifilm il tutto in un corpo che è come vi dicevo 469 grammi 127 mm x 75 mm cioè veramente piccolissimo per quello che offre per i sensori che offre per la qualità dell'immagine che offre ok detto questo introduzione veramente velocissima vediamo quali accessori sto per montare che sono quelli classici che molto poi tutte quante le mie camere intanto tolgo anche qui i triangoli che come vedremo non servono più al loro posto monto due clip di peak design a estrazione rapida che mi permetteranno di collegare a questa macchina diverse tipi di tracolle in base all'uso che ne voglio fare oppure di semplicemente togliere la tracolla velocemente cosa che non avrei potuto mai fare con la tracolla che era montata prima che una volta messa praticamente si lascia per sempre e rompe le balle basta secondo me una volta montate le clip di peak design come vedete si presentano in questa maniera e vi consentono di montare tutte le tracolle di peak design quindi volete scegliere se per esempio utilizzarne una da polso come questa e collegarla da una parte velocemente clip in questa maniera e poi dopo tenerla al polso quando non vi serve la staccate veramente in un secondo oppure visto che sono due se ne può montare anche si può montare anche una tracolla classica come in questo caso queste sottile ma peak design ne fa anche di più larghe si montano in pochi secondi tac ecco qua la tracolla e magari non so volete montare la macchina su tre piedi e la tracolla rompe solamente le balle quindi per toglierla un secondo e se ne va quindi questo sistema di peak design per le tracolle è il primo accessorio che vi consiglio per qualunque macchina fotografica abbiate altra caratteristica molto interessante presente in tutti i corpi di fujifilm che vi fa veramente capire qual è la loro filosofia che mi fa impazzire il tasto di scatto presente la classica vite standard che c'era nelle vecchissime macchine fotografiche vedete qui che il tasto di scatto al suo interno ha insomma le scanalature di una vite gli si può montare sia un tasto esterno che vediamo tra un attimo ma addirittura sono compatibili i vecchissimi scatti remoti questo qui ce l'ho da vent'anni utilizzavo su una nikon f e guardate si avvita e poi semplicemente funziona con questo sistema funziona anche il mezzo scatto per cui potrete mettere a fuoco e poi scattare ma parte questo che veramente così una finezza la cosa che monta ogni volta è il tasto di scatto esistono sia convessi che concavi si montano sopra qui si avvita semplicemente e vi dà in primis un'estetica per me fantastica guardate che meraviglia che è due una comodità una sensibilità molto maggiore sul tasto punto di scatto vi ricordo in ogni caso che chiaramente è presente la porta remote che permette di utilizzare i telecomandi più moderni senza usare insomma quello old school che vi ho mostrato prima veramente solamente così una roba che mi piaceva mostrare e oltre a questo le connessioni sono una micro hdmi per l'uscita video e una micro usb per la ricarica e l'alimentazione oppure il trasferimento dei dati insomma tutto qua volevo così farmi un'introduzione super veloce alla x100f gli accessori che utilizzo io di solito magari ne riparleremo qui sul canale se ci sono novità particolari o se magari c'è il nuovo modello della x100 cosa che spero magari entro l'anno vediamo vedremo in ogni caso se volete vedere come scatta questa macchina continuate a seguirmi su lega nerd perché usciranno diverse gallerie proprio da colonia dalla germania per gamescom come vi dicevo durante l'introduzione e soprattutto nella seconda metà di settembre farò due settimane in giro per tutto quanto il giappone e liberamente sfrutterò questa macchina al massimo possibile perché farò migliaia e migliaia di foto e le pubblicherò sia sui miei social che su lega nerd in degli articoli dedicati insomma continuate a seguirmi macchina super super consigliata ciao